Il mio nome è resistente come i pregiudizi che mi perseguitano. Il mio nome è minaccioso come le ombre nascoste tra i vicoli di Genova. Il mio nome è duro come i colpi che hanno insanguinato la notte. Sto cercando la verità e qualcuno vuole farmi tacere, ma io non ho paura. Pietra è il mio nome. Un romanzo di straordinaria potenza narrativa. Lorenzo Beccati, l'autore Rivelazione dell'Anno. Casa Editrice Nord.